Yu-Gi-Oh! Tutti ragazzi ben ritrovati sul canale! Oggi siamo qui finalmente dopo tanto tempo con un nuovo video in collaborazione con Konami. E per festeggiare questa incredibile collaborazione oggi sono qui per parlarvi dei nuovi supporti Orgoglio d'Oro. Ovviamente non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere subito le carte. La prima carta si chiama Orgoglio d'Oro rotola palla. Si tratta di un mostro a terra di livello 5 Psico. Il suo effetto recita. Se i tuoi life points sono inferiori a quelli del tuo avversario, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Durante la mind phase, effetto rapido, puoi evocare tramite fusione un mostro fusione Orgoglio d'Oro dal tuo extra deck, utilizzando mostri dalla tua mano o terreno come materiale. Puoi utilizzare ogni effetto di Orgoglio d'Oro rotola palla una sola volta per turno. Si tratta di una carta fortissima per il mazzo, soprattutto perché ti permette di fondere nel tuo avversario e la fusione che andremo a vedere dopo è altrettanto rotta. Ovviamente però non è una meccanica nuova perché è stata ripresa dai punk, che facevano sincro nel turno avversario, e Mascherena che è un Link che evoca tramite evocazione Link nel turno avversario. Detto questo, passiamo adesso alla fusione che è molto più interessante. La carta si chiama Orgoglio d'Oro Flipper. Si tratta di un mostro oscurità di livello 9 Macchina e si può evocare con Orgoglio d'Oro rotola palla più uno più mostri Orgoglio d'Oro. L'effetto recita. Se questa carta viene evocata tramite fusione, puoi equipaggiare a essa mostri scoperti controllati dal tuo avversario fino al numero di materiali fusioni utilizzati. Quindi ragazzi considerate che questa carta non, diciamo, identifica il vostro avversario. Ah, ovviamente potete utilizzare questo effetto solo una volta per turno. Inoltre, se i tuoi Life Points sono inferiori a quelli del tuo avversario, l'attivazione e l'effetto non possono essere annullati. Quindi praticamente entra e non c'è possibilità che l'avversario ve lo possa negare. Poi, una volta per turno, durante End Phase, se il precedente effetto è stato attivato in questo turno, fa ritornare questa carta nell'extra deck. E se lo fai, evoca specialmente un Orgoglio d'Oro rotola palla dal deck o cimitero. Questo diciamo che è l'effetto che viene ripetuto per tutti i mostri di extra. Passiamo adesso al mostro Xyz, ovvero Orgoglio d'Oro Carro Carrier. Si tratta di un mostro attributo Acqua, rango 3, di tipo Acqua. L'effetto dice, puoi staccare un materiale da questa carta, aggiungi una magia Orgoglio d'Oro dal tuo deck alla tua mano. Poi, se i tuoi Life Points sono inferiori a quelli del tuo avversario, puoi mandare un mostro Orgoglio d'Oro dal deck al cimitero. Puoi utilizzare il precedente effetto di Orgoglio d'Oro Carro Carrier una sola volta per turno. Inoltre, una volta per turno, durante End Phase, se il precedente effetto è stato attivato in questo turno, fai ritornare questa carta nell'extra deck. E, se lo fai, evoca specialmente un Orgoglio d'Oro Capitan Carrier dal deck o cimitero. Carta molto carina perché comunque ti permette di iniziare la combo. L'unica cosa è che, tenendo solo in considerazione gli Orgoglio d'Oro, la carta è molto difficile da evocare. E in questo caso ci viene in supporto un archetipo uscito l'anno scorso, ovvero i Punk, che ti riducono anche le F Points e quindi, a partita iniziata, ti permettono anche di far partire gli effetti degli Orgoglio d'Oro. Inoltre poi andrebbe in combo anche con Leona, che ovviamente entrerebbe special. In più, mi permetterebbe di rievocare dal cimitero il mostro che ho mandato al cimitero con Carro Carrier. Passiamo adesso alle tre magie. La prima è Orgoglio d'Oro, quello è sbucato dal nulla. E l'effetto recita. Evoca specialmente un mostro Orgoglio d'Oro dalla tua mano o cimitero. Poi il tuo avversario può evocare specialmente un mostro dalla sua mano o cimitero sul suo terreno, ma nulla ai suoi effetti. Questa carta è molto interessante in quanto mi fa da effetto sorpresa nel turno avversario, soprattutto se giocata col mostro che abbiamo visto all'inizio, che fonde nel turno avversario. E quindi diciamo, anche il mostro che evocherebbe l'avversario non sarebbe un problema perché verrebbe equipaggiato al mostro evocato. Perché verrebbe equipaggiato al mostro fusione. Ovviamente comunque è da giocare con cautela perché rievochi un mostro all'avversario, quindi anche se ha l'effetto negato potrebbe dare problemi. La seconda magia che andiamo a vedere si chiama Orgoglio d'Oro, pedale a tavoletta. Si tratta di una carta magia rapida e il suo effetto dice, scegli come bersaglio un mostro Orgoglio d'Oro che controlli fino alla fine di questo turno, esso guadagna 500 d'attacco. Non può essere distrutto in battaglia o dagli effetti delle carte e non può attivare i suoi effetti. Durante la end phase, se uno o più mostri Orgoglio d'Oro scoperti che controlli sono stati distrutti in battaglia o dall'effetto di una carta in questo turno, puoi posizionare questa carta dal tuo cimitero. Puoi utilizzare questo effetto di Orgoglio d'Oro, pedale a tavoletta solo una volta per turno. Per quanto riguarda questa, carina, non urlo al miracolo perché secondo me si poteva fare qualcosina di più, però diciamo che è la carta che protegge i tuoi mostri. L'unica cosa è che sarebbe stato molto più carino se avesse protetto tutti i mostri contemporaneamente e che non mi negasse l'effetto, però diciamo, meglio avercela comunque che non. Poi ovviamente quando uscirà, provando il mazzo, vedremo se avevo ragione o meno. Passiamo adesso all'ultima carta magia che secondo me è la carta più interessante. Si tratta di Orgoglio d'Oro andrà meglio la prossima volta. È una carta magia continua e il suo effetto recita. Quando questa carta viene attivata, puoi aggiungere un mostro Orgoglio d'Oro dal tuo deck alla tua mano. E se lo fai, perdi Life Points pari al suo attacco. Se uno o più mostri Orgoglio d'Oro scoperti che controlli sono stati evocati specialmente dall'extra deck, ritornano nell'extra deck, puoi pescare una carta. Puoi utilizzare questo effetto di Orgoglio d'Oro andrà meglio la prossima volta, una sola volta per turno. Puoi attivare solo un Orgoglio d'Oro andrà meglio la prossima volta per turno. Carta ovviamente fortissima per il mazzo, in quanto prima si aveva una sola carta per poter partire di combo. Adesso ne abbiamo due, quindi tre per di ognuna ne abbiamo già sei. In più abbiamo il tre per, nel caso dell'exis, che diciamo ok che lo tiri con i punk, però sono altre carte che comunque ti permettono di giocare. In più mi fa anche pescare, quindi mi permette di avere anche un vantaggio carta in mano. Passiamo adesso all'ultima carta, una carta trappola, ovvero Orgoglio d'Oro testa a testa. Si tratta di una carta trappola normale e il suo effetto recita. Scegli come bersaglio un mostro Orgoglio d'Oro che controlli o una carta Orgoglio d'Oro nel tuo cimitero, eccetto Orgoglio d'Oro testa a testa. Falla ritornare nella mano. Se il tuo avversario controlla un mostro con attacco superiore ai tuoi left points, puoi bandire questa carta e un mostro Orgoglio d'Oro dal tuo cimitero, evoca specialmente dal tuo extra deck un mostro Orgoglio d'Oro che menziona il nome di quel mostro bandito. Può utilizzare ogni effetto di Orgoglio d'Oro testa a testa una sola volta per turno. Diciamo che è quel genere di carta che la vedo un po' come o la va o la spacca, perché l'idea di base è quella di utilizzarla quando ovviamente siamo in svantaggio, rimuoverla e rimuovere un Orgoglio d'Oro esempio il mostro che abbiamo visto per fondere, ritirare il mostro fusione, prendere il controllo del mostro avversario e quindi nel caso ottenere vantaggio. Vi ho convinto a montare il mazzo, e questa cosa serve una cosa molto bellina, o già lo avevate montato e recupererete solo i supporti quando usciranno? Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Detto questo ringrazio Konami per l'opportunità e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!